Ben ritrovati da Simone Nardone, un nuovo appuntamento con il GR Locale. Attesa a Formia per sabato, quando a partire dalle 10.30 presso la Sala Ribot del Municipio si terrà il convegno a Zardo e Mafia e un grido di allarme nel sud Pontino, ad organizzarlo la Caritas Diocesana di Gaeta insieme alle realtà associative che hanno aderito al tavolo di cittadinanza attiva. Il convegno, che segnerà un vero e proprio focus sul tema, vedrà intervenire anche l'arcivescovo di Gaeta, Luigi Vari, insieme al prefetto di Latina Maurizio Falco e anche al consulente per la Commissione Parlamentare Antimafia, Filippo Torrigiani e il tenente colonnello Luigi Galluccio, comandante del gruppo della Guardia di Finanza di Formia. Lutto a fondi nella giornata di ieri, quando all'età di 95 anni è venuta a mancare la celebre dottoressa Fulvia Di Sarra. A fondi tutti conoscevano la donna che per decenni è stata un medico scolastico, per poi essere un'educatrice di diverse generazioni, ma anche scrittrice, nonché sorella, del celebre Dandanino Di Sarra, a cui è intitolata la Biblioteca Comunale. Comune e Proloco hanno parlato di profonda tristezza. La dottoressa Di Sarra nel 2017 era stata anche premiata proprio dalla Proloco come persona dell'anno. Svolta digitale a Gaeta, ieri il Comune ha presentato la trasformazione della sosta automobilistica a pagamento in città attraverso l'app EasyPark, ovvero l'applicazione per la sosta più diffusa in Italia e anche in Europa. L'app consente agli automobilisti di iniziare, terminare e pagare la sosta su strisce blu dal proprio smartphone in modo facile e comodo. Molti vantaggi di EasyPark, l'area di sosta e la relativa tariffa infatti vengono visualizzate automaticamente tramite la geolocalizzazione ed è possibile sia prolungare la durata della sosta direttamente dal cellulare ovunque ci si trovi o interromperla anticipatamente al rientro in auto, pagando solo il tempo di sosta effettivamente consumato. Domani affondi il convegno sulla rigenerazione urbana promosso dall'assessore all'urbanistica Claudio Spagnardi appuntamento alle 9.30 presso l'auditorium della Banca Popolare di Fondi dove interverranno vari esperti del settore per illustrare le opportunità sulla rigenerazione urbana, in particolare sull'articolo 3 della legge regionale numero 7 del 18 luglio del 2017. L'evento, che vale anche come crediti formativi presso i rispettivi ordini professionali, prevede comunque l'ingresso libero e gratuito per i cittadini che vogliono informarsi su quanto prevede il piano di rigenerazione urbana. Nei giorni scorsi l'arcivescovo di Gaeta Luigi Vari ha assegnato nuove incariche da alcuni sacerdoti. Don Riccardo Pappagallo è stato nominato vicario parrocchiale della parrocchia di Penitro ed è stato designato anche come cappellano dell'ospedale Dono Svizzero di Formia. Don Alessandro Casaregola mantiene l'incarico della pastorale delle vocazioni e prende anche l'ufficio di pastorale giovanile. Don Francesco Contestabile invece mantiene l'incarico di vice direttore della Caritas Diocesana e prende anche l'ufficio diocesano per i problemi sociali e del lavoro. Don Antonio D'Arcangelis invece ha ricevuto l'incarico di assistenza spirituale presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi. Questa era la nostra ultima notizia, un saluto da Simone Nardone a risentirci alla prossima edizione del giornale radiolocale.